Ciao raga, eccoci qua, allora f11, perfetto, eccoci, dovremmo essere in video, registrazione, aspettate un attimo che guardo, si perfetto, ok a posto, entriamo, allora, off camera ho fatto un paio di cose, per esempio ho fatto due picconi e un paio di torce in più perché oggi appunto andiamo in miniera, sta per arrivare notte, quello cos'è, il mercante, ok, sta per arrivare notte, noi dormiamo, ho anche sbagliato a scrivere, perfetto, e andiamo nella miniera, perché questa qui è l'episodio di oggi, no, andare in miniera, guardate che bello l'alba, vabbè a noi ora ci interessa soltanto andare in miniera allora qua c'è la miniera vicina, non so se questa miniera e quella che abbiamo visto nello scorso video lì, tipo l'aera, sono collegate, non lo so adesso lo scopriamo, no mamma mia quanto è buio ragazzi non so se voi vedete ma io non vedo molto ah, bella eh, vabbè comunque abbiamo trovato il ferro allora, forse non ci siamo capiti dov'è allora, dove cavolo è e blocchi sonori, ecco, forse era questo, eh ambiente, mi sa che c'era anche, vabbè no, l'ambiente lo lasciamo perché forse è l'ambiente dove camminiamo in questo momento, non i suoni perfetto, allora abbiamo sistemato con l'audio, spero, eh prendiamoci questo ferro ah mamma mia, ne abbiamo già cinque di ferro mi hanno trovato una bella vena, eh ok, chiudiamo si deve sempre tenere qui le cose la prima cosa che ci faremo è un bel piccone di ferro, ragazzi eh sì qua abbiamo trovato anche il carbone che non avevo visto, tra l'altro e ci serve, ragazzi, mamma mia prenderò tutto il carbone che c'è ok questa cosa mi piace ora cerchiamo di scendere con la massima cautela, però cavolo wow mio dio, raga c'è un creeper creeper ehm dov'è il mister creeper eccolo vieni qua, creeper ok ehm cerchiamo di scendere oddio vabbè l'importante è che è morto comunque l'armatura dobbiamo farci, allora ragazzi se no qua sotto non so se riusciremo ad andare fortuna che abbiamo un cibo che ci recupera vita visto quanto sono pimpante oggi dai non ci credo è spawnata una pecora, raga cioè, ma avete sentito, spero allora facciamo così perché va più figo, no? perfetto così riusciamo ad andarcene più facilmente, no? ci prendiamo questo poi mettiamo subito delle torce appena scendiamo facciamo tipo pop poi anche una la ok no, la batteria oh mio dio aspetta un attimo ragazzi metto un attimo in carica il computer che si è scaricato con tutti i video che ho fatto oggi cioè due questo qua il terzo però lol mi ha preso tantissimo anche se è venuto uno schifo ma vabbè oddio raga e abbiamo un ospite paura vatti sotto mamma mia oh vabbè cavoli suoi io il mio lavoro l'ho fatto allora io direi non so se chiudermi tipo perché è più sicuro chiudersi questo è ovvio però la voglia è poca fin qua siamo tutti d'accordo cioè almeno io ho poca voglia poi voi non so se giocate a minecraft avete voglia o no ah vabbè questo qua mi pare che l'episodio 3 mi sembra di si ovviamente togliamo l'episodio che quello lì che abbiamo fatto con i minecraft che ci faceva laggare quello lì non lo contiamo perché no non è molto giusto contare un episodio dove laggava solo e poi ci si muoveva tutto a scatti ti faceva anche quittare tra l'altro no 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 comunque ci vediamo quando era accorto il carbone ok ragazzi dovremmo esserci perché ho cambiato un attimino l'impostazione del riprendere col video e funziona quindi ci siamo ragazzi ok perfetto prendiamo il ferro abbiamo fatto bene a prendere quel carbone comunque adesso ne abbiamo tipo 43 e lì ce n'è altro lì c'è un altro creeper raga ma vabbè è joking ma stammi lontano sterco vivente no dai no oddio e vabbè dai però le torce mi spreca le torce fortuna che ho il carbone ora me lo posso permettere però non è che ne abbia tanto forse lì c'è uno scheletro aspetta no però qua sembra che ha finito no no scende scende e non di poco fermiamoci un attimo qua guadagniamo terreno per questa caverna qua prendo questo ferro così già nel prossimo episodio saremo meglio attrezzati ovviamente metterò a cuocere tutto off camera oppure anche nel video non lo so quello che voglio io vabbè ci vediamo quando finisco di prendere questo carbone poi io ho visto altro carbone quindi ci vediamo fra poco allora ragazzi ho preso il carbone il carbone l'ho preso e adesso non so se continuare lì sotto perché continua oppure andare ad esplorare verso di là visto che è vicino alla zona tutto lì scuro mi dà un po' fastidio quello scuro ho preso tutto il carbone che c'era fermiamoci un attimo qui vi faccio vedere ho preso uno stack e mezzo di carbone cioè tantissimo e quel filone era enorme ragazzi e ci ho messo anche un bel po' per raccoglierlo quindi oddio una stanza simmetrica vorrei veramente tanto aumentare oddio aumentare la luminosità del gioco oh ma qui continua dov'è che va finisce boh perfetto eeeh wow qua abbiamo veramente tanta roba non so voi ma noi abbiamo tantissima roba qui il carbone è veramente pasta ne ho tantissimo ragazzi di carbone ovviamente ne prenderò altro però non ora che ne abbiamo uno stack e mezzo di carbone che è veramente tanto questo stack e mezzo allora sento un ragno oddio lag no ok forse si è ripreso prendi questo perfetto strano che non mi abbia colpito comunque visto che almeno una volta forse ragazzi però abbiamo trovato uno spawner no raga io vi dico che lo distruggo a prescindere odio gli spawner raga ma io cosa vi ho detto odio gli spawner di ragni spero che questo si sia capito io lo spawner lo tengo però cioè raga io non ci farò mai una farm con gli spawner di ragni sono sempre stati i spawner che odiavo di più se posso dire ok abbiamo 52 torce adesso ragazzi mamma mia sono davvero tante ma neanche troppe io qua spero di trovare uno smeraldo per favore almeno uno se non troviamo uno smeraldo almeno tipo non so tipo cos'è che potremmo un libro incantato e niente mi da cicezia proprio io lo schifiume più totale mi sta dando e vabbè eh feri del mestiere si lo so ho due di ferro mio dio che bel ferro del mestiere vabbè però qui vabbè ne ho 26 ragazzi e qua veramente boh continua spero che finisca oh mio dio è finita questa qua no i ghiaia per favore andiamocene ci manca solo guarda che la ghiaia ci distrugge tutto beh il nostro primo spawner del gioco l'abbiamo trovato questo è sicuro e niente perfetto prendiamo il ferro lo prendiamo tutto perché si dobbiamo prenderlo tutto il ferro se no perché il ferro è uno dei materiali più utilizzati in minecraft se no il più utilizzato oltre il ciotolo e la terra forse non lo so non voglio dire cose che poi gli sono errate io direi di piazzare bene le torce perché ogni microscopico buco può spawnare qualcosa qui abbiamo finito di esplorare verso destra il che è molto bello mi piace molto questa cosa ok perfetto qua non c'è niente andiamo a sto blocco di carbone va bene lo prendo solo per sfizio perché sono dipendente dal carbone ragazzi eh si dipendenza c'è no per favore non c'è sento uno zombie c'è uno zombie ho visto dei sottotitoli che c'è uno zombie non è che l'ho sentito c'è l'ho visto dai sottotitoli mettiamo una torcia qui tanto ne abbiamo a infinità lì vabbè carbone non me ne frega qua mi pare che c'era del ferro o no no non c'era il ferro scusatemi ecco mi stavo dicendo che qua non c'è ferro quindi ho visto che qua non so se mettere una torcia però penso proprio di sì qua lasciamo stare guarda basta andiamo avanti per favore spostiamo solo questo un attimo cos'è che potremmo mettere perché mi ha messo tutti i materiali tipo così e non qua al centro quel centro ha lasciato vuoto va bene campione ragazzi dobbiamo prepararci non so se provo un attimino ad alzare la luminosità perché io ci voglio vedere non so voi ma io voglio vederci qualcosa ok io ora vedo già un pochino meglio ho la valzata al massimo non so vedete voi oh c'era il ferro no era carbone vabbè qui è finito eh ma dai però guardate raga continuano a esserci i cosi i rumori inquietanti continuano a esserci ambiente sarà aspettate un attimo provo a vedere se ecco forse era ambiente raga mi sa di si ok meglio così mamma mia comunque non so se giorno o è notte aspettate un attimo che guardo non so neanche dove guardare per vedere se giorno e notte comunque andiamo tipo all'incirca 15 fps ma può anche andar bene però fuori andiamo fuori che c'è più roba da caricare arriviamo tipo a 5 10 fps massimi non so dove guardare bioma planes non so cosa sono server light sound ah ma stiamo a 12 blocchi di altezza o no no vabbè lasciamo stare raga non sarò molto bravo in queste cose però voglio un attimo prendermi questo materiale perchè voglio provare a fare una cosa potrebbe venire bene voglio provare a farla prendiamo un attimo questo materiale perchè voglio fare una cosina molto bella che vi farò vedere però non vi dico prendiamo questo muro poi se non ci basta non importa cioè no dai prendiamo l'ultimo muro per sicurezza perchè non c'ho voglia di ritornare qua in miniera non c'ho per niente voglia ok perfetto abbiamo preso perfetto ne abbiamo 38 molto bene qui c'era ferro si però non indietro allora abbiamo praticamente preso tutto quello che c'era qua quindi raga oh ecco a me sembrava che mancava qualcosa sembrava che qua c'era del ferro che non avevo visto oddio è finito il piccone proprio nell'ultimo blocco di ferro che era rimasto ah siete pronti al lag che ora ritorniamo in superfi ah no vabbè abbiamo ok perfetto c'abbiamo anche qua pure qui c'abbiamo perfetto perfetto dobbiamo andare sopra pure qua c'abbiamo bello diamo la cosa carina delle torce qua oddio no 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 quello lì tutto ma non quel micro microchip bruttissimo spero che non mi stasse oh no io l'odio sto qua oddio madonna deve soffrire sto sto qua è quello che ti distrugge i sogni che hai nella tua vita mamma mia no no mamma mia levati madonna odioso sta facendo giorno facciamoci fuori questo ma è spunto uno zombie raga davanti a noi ok quello è morto e lui vabbè cioè se diamo la nostra spada questo qua ci sciotta raga possiamo farci un'armatura ora che ci penso aspettate un attimo eh voglio provare non pure i ragni vabbè facciamo fuori questo ragno che è più fastidioso degli altri ok via 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 ok giorno per fortuna ora vi dico perché lo facciamo non fa più tanto il gradasso eh vieni qua no ma ci ha dato il blocco io non volevo il blocco ma dai io non volevo il blocco io volevo lo smeraldo no non è lo smeraldo l'ender pearl non mi ricordo come si pronuncia in italiano vabbè mettiamo assolutamente tutto quello che abbiamo qua dentro ossa oh aspetta un attimo raga raga qua ho visto un amichetto togli questo dov'è dov'è il lupo dai per favore un lupo un lupo ti subbligo dammi un lupo lì poi c'è una pecora nera perfetto proprio quello che non volevo perché sento ma dai ma chi l'ha vista questa due creeper ci sono là dentro ma veramente chi l'ha vista quella caverna ma io non l'ho mai vista o è comparsa ora o non lo so vabbè ritorniamo subito a casa mangio prendo questo bene casa dolce casa c'è finita la spada ma a noi non ci interessa perché ora ragazzi indovinate un po' chi si fa la spada di ferro io me la faccio ah guardate che bella mamma mia bellezza proprio bella bella mettiamo a cuocere assolutamente tutto questo facciamoci anche un'altra fornace dobbiamo mettere a cuocere per mettere a cuocere in futuro altre cose io ne uso solo due di solito di fornace quindi no ho sbagliato ok perfetto per ora mettiamo le ossa qui questo qua vabbè il legno lo mettiamo qua dentro qua abbiamo tipo un botto di terra prendiamone solo mezzo stack ah cioè vabbè 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 mi sono confuso scusate ok buttiamo questo qua e questo qua allora cos'è che volevo fare io non so se so come si fa tecnicamente ok perfetto penso che quattro bastano ne abbiamo venti qua sapete cosa facciamo usiamolo tutto tanto non è che ne avevamo così tanto trentasai perfetto ah cosa volevo fare io prima di concludere volevo fare una recinzione tutto intorno a noi di questo però avremmo bisogno anche di terra dammichio eh no questo video è per i bambini allora molto bene ok dovrebbe bastare eh questo questo qua ce lo prendiamo perchè alla fine non penso che farò così non penso che appunto userò il coso il legno da mettere tutto attorno alla casa allora facciamoci sta recinzione così ce la leviamo di torno qua c'è la porta mettiamo qua ma forse ops ho sbagliato voglio metterla tipo qua e ho capito tutto quanto quello che vuoi però ecco qua ci passano sì raga questi qua non funzionano ci vediamo quando faccio quello che penso io allora ragazzi ho fatto questi perchè erano questi che dovevo prendere perchè volevo anche fare gli altri però perchè sarebbe venuto meglio ma sono costretto a fare così perciò facciamolo così e non ci lamentiamo allora la larghezza di qua è di due blocchi quindi anche di qua sarà di due blocchi molto semplice non so neanche cosa ci basta ma oh no aspettate un attimo ok perfetto ma vedi che ce ne avevamo anche qua i fiori gialli sono gialli? di campo ma ah boh eeeh chiudiamoci tutto bello ma guardate che bello ragazzi guardate che bellezza è perfetto raga mi piace proprio tanto si vede cioè da quel tocco di classe in più alla casa che non ha e per entrare basta fare così e chiuderci fuori e chiuderci dentro direi di mettere delle torce lasciamo un attimo e oddio mettiamole pure qua le metto anche nel tetto perché i mostri possono sponare lo stesso non è che il tetto è più no vabbè non importa qui chiudiamo questa aspetta prendiamoci prima questo voglio piantare tipo un alberello lì è proprio brutto da vedere però lascia quel segno in più di globalizzazione che abbiamo fatto noi mi piace molto così perfetto molto bene qua il ferro si sta cuocendo qui non abbiamo molto da fare ah qui c'era del legno ma questo legno da dove viene scusa vabbè ha scoperto che volevo usarlo per fare gli stick allora abbiamo già il ferro direi di farci armatura assolutamente ragazzi armatura per sempre ok molto bene ora possiamo anche farci un bel piccone il nostro primo piccone poi magari nei prossimi video troveremo il diamante lo spero proprio pala pala e infine la nostra cara e amata ascia che a me piace veramente tanto ragazzi è la mia arma preferita perché mi ricorda tantissimo i vichinghi ragazzi se non lo sapevate e la pala la buttiamo ci prendiamo no ho sbagliato no no il piccone per ora facciamo così lasciamolo sopra ma ragazzi cioè guardate boom 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 e boom ah cioè raga dai bellissimo guardate che belli che siamo con l'armatura bellissimi diciamo perfetto qui il ferro continua a cuocere abbiamo fatto la maggior parte degli utensili che ci serviva per ora qui vabbè non c'è molto da vedere a che minutaggio siamo aspettate che guardo ok 27 minuti eh questo video è durato già di più rispetto agli altri eh video che ho fatto su minecraft perciò io beh lo concludo perché abbiamo fatto veramente tante cose voglio ricordarvi questo bel cancello se riesco lo metto come miniatura del video visto che è youtube che sceglie non io e io concludo tipo qua all'angolino spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi e quindi noi ci rivediamo ad un prossimo video che uscirà stasera che è quello di pokemon poi forse forse se ho voglia facciamo uscire anche un bellissimo video su un altro video su minecraft che devo ancora scegliere il titolo non mi ricordo non so poi ve lo dirò ciao ragazzi